Mapea da MCE porta a quelle che sono le soluzioni per l'installazione degli impianti termoidraulici. Fondamentalmente trattasi di, per quanto ci riguarda, di sistemi di riscaldamento e raffrescamento che vengono utilizzati al di sotto delle pavimentazioni. Quindi trattasi di massette ad altissima conducibilità termica, di consistenza terraumida o prodotti autolivellanti rapidi, tipo il nuovo PlanMaxi, che vengono utilizzati per sistemi di riscaldamento e raffrescamento, utilizzati oggi moltissimo nel ripristino, visto il basso spessore, per inglobare i tubi che trasportano l'acqua. Di fatto i prodotti sono venduti circolarmente, ma rappresentano questi prodotti una parte di un sistema più ampio, in quanto sopra, poi siamo in grado di andarci ad installare ogni tipologia di pavimento, dalle ceramiche potrebbe essere un parquet piuttosto che un pavimento vinilico. Parlando di pavimentazioni, si include anche tutte quelle che sono le problematiche relative all'isolamento acustico. Pertanto nel nostro stand è possibile vedere quali sono le soluzioni offerte da MAPEI, in pratica i prodotti della gamma MAPEI Silent che permettono di realizzare efficienti solamente acustici al di sotto delle nuove pavimentazioni. Oltre a questo, quello che presentiamo sono tutti i prodotti che vengono utilizzati nell'impiantistica, tipo schiume, sigillanti, prodotti generalmente destinati al mondo del fissaggio. Comunque la nostra attività sul mercato è caratterizzata da una forte assistenza al cliente per orientarla nella soluzione tecnica più idonea, sia durante la realizzazione del progetto, ma anche durante la realizzazione del cantiere, affinché si possa raggiungere un risultato eccellente.